Il nostro ospite di oggi, se anche io non ve lo presentassi, non dovrebbe essere molto difficile capire da quale mondo arriva, non soltanto per una questione di colori, non soltanto per una questione di ambientazione. Siamo nella Sala delle Vittorie, che non è il Teatro delle Vittorie, quello dove facevano canzonissimo gli spettacoli, della Rai del sabato sera. Siamo nella Sala delle Vittorie della Ferrari e siamo con Simone Resta, che è il capo degli ingegneri telaisti. Così è più comprensibile, perché la qualifica sarebbe Head of Chassis Engineering. Come si diventa uno che fa il tuo lavoro? Come si diventa ingegnere della Ferrari? Tu quando eri piccolo, questo desiderio ce l'avevi già facile perché sei nato qua vicino. Diciamo che penso si diventi ingegnere della Ferrari in tanti modi, ma sicuramente con un elemento comune che è una grandissima passione, una grande voglia di arrivare in questo mondo e di dare il proprio contributo in un grandissimo libro di storia della Ferrari di scrivere una piccola parte con la propria mano. È una carriera che nasce da lontano. Che studi hai fatto, esattamente. Ho studiato Ingegneria Meccanica a Bologna. Poi sei venuto qui a Maranello e via a Betone e hai suonato il campanello. No, ho suonato il campanello prima di Giancarlo Minardi a Faenza. Perché tu sei faentino. Sì, sono faentino, esattamente. Ho lavorato con la Minardi per un po' di anni e poi è stata la grande possibilità di venire in Ferrari e l'ho colto al volo. Da quanti anni sei in Ferrari? Sono in Ferrari dal 2001. Dal 2001, quindi siamo vicini al ventesimo compleanno. Stagioni ovviamente diverse fra di loro. Le grandi stagioni dei successi di Michael Schumacher. Ci sono le sue cinque macchine che hanno vinto il mondiale qui. Esatto, emozioni incredibili. Tantissimi ricordi. Gare sempre al Carbio Palma con vittorie di strategia, vittorie sul bagnato. Sì, un turbinio di emozioni davvero, ripensarci. Prima di entrare nel dettaglio del tuo mondo ti volevo chiedere però qual è stato l'oggetto tecnologico nel quale ti sei imbattuto per primo? Cioè, il tuo primo ricordo un po' tecnologico in cui hai capito anche magari di avere una certa attitudine. Beh, diciamo che forse le prime esperienze vissute veramente sulla tecnologia sono quelle fatte nell'officina di mio padre, dove in estate lo aiutavo appunto a fare delle attività, dei piccoli lavori e dove ho preso familiarità con la meccanica, con i componenti, con i pezzi, con il fatto di partire da un blocco di metallo e magari produrre qualcosa di vero. Senti, guardavo queste macchine e si vede ovviamente tutto il cambiamento di questi ultimi decenni. A lettre spalle c'è una macchina di Clay Regazzoni, quella era quella di Gilles Villeneuve. Si vede anche la differenza dei dettagli, no? Quegli alettoni, a parte che se potessero parlare potrebbero raccontarci anche delle cose quasi pornografiche per un appassionato di Formula 1. Però insomma, si vede che lì c'era ancora tanta mano dell'uomo, mentre man mano che si va verso la macchina di Ackinen, di Raikkonen, sorry, si capisce che insomma il computer, la tecnologia ha fatto grandi progressi. Beh, mi viene da pensare che l'uomo fa sempre la differenza. Chiaramente il computer, piuttosto che i software o le macchine, aiutano l'uomo a fare un lavoro migliore, aiutano l'uomo a ottimizzare di più un componente. Però vediamo appunto in questa stanza, vedendo queste vetture, come l'evoluzione è continua. E l'evoluzione è stata spesso anche guidata dai regolamenti. Per cui il compito di noi ingegneri è quello sempre di cercare di ottimizzare al massimo il pacchetto dato i vincoli regolamentari che ci vediamo appunto. Regolamenti che vanno sempre in due o tre direzioni. Da una parte fare delle macchine che siano utili anche per, diciamo, l'uomo della strada. Mi raccontavi in apertura prima dell'intervista che le macchine attuali consumano praticamente il 30-40% di benzina in meno rispetto a quelle degli anni 90-2000. Ed è un progresso incredibile questo. Ed è un progresso incredibile e anche molto rilevante per le macchine da strada. Perché comunque l'aumento di efficienza della componente ibrida di fatto viene anche riversato sui nostri prodotti, sui nostri Ferrari stradali e consente veramente di massimizzare le prestazioni anche con un occhio alla sostenibilità dell'ambiente. Senti, l'altro aspetto invece è quello che riguarda la sicurezza dei piloti. C'è stato il drammatico incidente veramente casuale ma incredibile del povero Jules Bianchi pochi anni fa. Prima di quello l'ultimo incidente di cui ci si ricordi, ahimè, è quello di Ayrton Senna. Questo vuol dire che da 26 anni, tolto, ripeto, l'incidente quasi casuale purtroppo di Bianchi, le macchine di Formula 1 sono diventate sicurissime. Sempre che si possa usare questo termine perché stiamo parlando di gente che vola quasi con un'automobile. Esatto, diciamo che la sicurezza è crescita tantissimo. È chiaro che rimane sempre una componente di rischio nelle corse, è proprio inizita nella competizione. Certo. Però comunque gli sforzi fatti dalla federazione assieme alle squadre hanno portato anno dopo anno a fare ricerche, a implementare nuovi concetti sulle strutture di crash, piuttosto che sulla resistenza del telaio, le penetrazioni, piuttosto che sulla ritenzione delle ruote, che sono un oggetto molto pericoloso in pista quando appunto un pilota può perdere una ruota dopo un urto. E per finire all'introduzione, diciamo, dell'ultimo step, che è quello dell'alo, quindi una struttura che avvolge il pilota e lo va a proteggere da eventuali corpi che possono... I piloti l'hanno digerito, quello a fare, perché all'inizio non piaceva veramente a nessuno, neanche a noi che guardiamo i gran premi. Poi noi ci siamo abituati, ai piloti credo anche, no? Sì, devo dire che magari dopo lo shock iniziale l'hanno digerito e la presenza è abbastanza ingombrante, ma insomma se porta sicurezza benvengano. Nei prossimi anni cambieranno ancora le regole, dovevano cambiare già il prossimo anno, ma per via del Covid, insomma, il regolamento è stato, diciamo, congelato, dal 2022 si cambia ancora e addirittura torna l'effetto suolo. Torna un parziale effetto suolo, chiaramente non sarà come queste vetture con le minigonne, con le espressioni attive, però comunque la componente, diciamo, di deportanza generata dal fondo aumenterà. Per tornare al punto che dicevi prima, quindi la sicurezza, verranno fatti dei passi molto, molto importanti sulla sicurezza, quindi sui telai, ancora i robustimenti, ancora criteri... Sì, roba nostra, dove io do il mio contributo, criteri ancora più stringenti, prove più difficili da superare, Per esempio? Penetrazioni laterali con carichi molto più alti, diversi criteri di crash per il muso, eccetera, eccetera. Quindi un bel challenge per noi ingegneri, che ci teniamo impegnati. C'è un contatto diretto fra voi ingegneri, telaisti in particolare, e i piloti, oppure quello che vi arriva, arriva sempre ovviamente filtrato dal direttore sportivo, o dagli altri, dei capi degli ingegneri, non saprei... Beh, sicuramente ci sono dei contatti diretti, è importante che ci siano, per vero un feedback il più possibile diretto, poi comunque partecipiamo alle riunioni, ai briefing che ci sono dopo gli eventi in pista, quindi comunque sentiamo anche dalla loro voce. Si parla in emiliano le riunioni o in inglese? Si fa sapere la risposta. In inglese. Senti, una volta si parlava molto del fondo schiena di Niki Lauda, che era uno in grado di capire se la macchina andava o non andava. Qual è stato il fondo schiena più sensibile che hai trovato in questi vent'anni di Formula 1? Cioè quello più in grado di darti le indicazioni più efficaci? Diciamo che tutti i campioni sono diversi, ognuno di loro ha il loro stile, è sensibile a alcuni componenti della vettura. Ricordo sicuramente con molto affetto i tempi di Michael, che era un perfezionista su tutti i punti di vista, quindi dalla cura che metteva nello sviluppo del sedile, degli airbag che aveva intorno al proprio corpo, alla cura, al volante. O magari ricordo anche i feedback di Kimi, precisissimo, super sensibile alla guida, super sensibile all'anteriore, quindi piloti diversi, feedback diversi, però sempre molto interessante lavorare con loro. Voi vi accorgete dai dati, diciamo, del dopogara, vi accorgereste di chi è la macchina? Nel senso che ognuno di loro avrà un modo diverso di consumarla, di trattarla. Ognuno di loro ha un modo diverso di guidarla, quindi sicuramente dai dati si vedono delle differenze. Capita comunque che ci siano piloti che hanno stili molto simili, quindi in una stagione possiamo avere dei piloti che guidano la macchina con un assetto, diciamo, con un comportamento simile. Ti capita ogni tanto di guardare le stradali? Sì. Nel senso quelle che vengono vendute, sono quelle che si possono guidare? Sì, sì, le guardo con molto interesse, ho anche avuto un breve periodo di attività appunto in GT, ho conosciuto meglio quei prodotti, sicuramente prodotti incredibili, di grandi prestazioni, ho anche avuto occasione di guidarle, o comunque di essere passeggero su queste vetture, devo dire che sono veramente oggetti incredibili. Mi raccontavi prima di una volta in cui sei stato passeggero di una Formula 1 adattata. Adesso è una cosa che purtroppo o per fortuna non si fa più. Fino a po' di anni fa molte scuderie modificavano la macchina, toglievano i serbatoi, credo, allungavano un pochino il passo e dietro al pazzo che guidava c'erano due pazzi che facevano da passeggeri. E tu l'hai fatto con Fernando? Sì, l'ho fatto con Fernando. Quanti giri hai fatto? Ho fatto un giro e poi ho gentilmente chiesto di rientrare al box, è un'esperienza incredibile, diciamo che il mio stomaco forse non era pronto a una... Faccio a pressione la frenata, la percorrenza di curva o la velocità? A me ha fatto moltissima impressione la frenata e il cambiamento di direzione veloce e anche l'approccio che ha al cordolo. Sicuramente è una cosa che non mi aspettavo, ce lo dobbiamo immaginare come una cosa di un livello, di un ordine di grandezza superiore a quello che possiamo vedere magari in auto quando giriamo per le strade normali. Come fanno i piloti ad avere la visuale di quello che gli accade intorno se sono così sdraiati per terra e addirittura spesso per sapere dove è la curva loro si rifanno i cartelli che indicano la distanza in metri, no? Beh, sicuramente non sono campioni per caso, quindi comunque hanno sviluppato una capacità diciamo di conoscere e memorizzare la pista e quindi automaticamente di crearsi gli automatismi per appunto staccare piuttosto che accelerare nel punto corretto. Siedono moltissimo, siedono molto molto in basso in vettura e riescono a vedere appena la parte superiore delle gomme, però è come che in qualche modo abbiano costruito nella loro mente quelle che sono diciamo le dimensioni della vettura e fanno dei fili spaventosi anche ai bordi pista. Sì, è veramente incredibile. Ho letto che state aggiornando i vostri simulatori anche, no? Sì, sì, sì. È una, sicuramente una parte importante dove i team stanno investendo in questi anni, avendo sempre più limitazioni per i test in pista, investiamo sui test indoor e quindi stiamo, sì, lavorando su una nuova generazione di simulatori. Che non è ovviamente una console per videogiochi come quella a cui siamo abituati, ma ricrea tutte le situazioni? Sì, ricrea le situazioni. Cioè un pilota quando scende da un'ora nel simulatore o mezz'ora è stanco come se avesse guidato una macchina vera, credo. Le accelerazioni sono un po' diverse, però ci sono dei meccanismi, diciamo, di movimento della piattaforma che cercano di assomigliare il più possibile alla vettura reale. Non è come guidare una vettura reale, però cerca di assomigliarsi il più possibile per dare feedback il più possibile ai realistici. Oppure a volte può anche servire per memorizzare un circuito che non si conosce, no? Quando ne viene inserito uno nuovo nel mondiale e negli ultimi anni è successo spesso. Esattamente. Succede a voi progettisti di pensare anche all'estetica di una macchina di Formula 1? O è solo una conseguenza? Non troppo frequentemente, però qualche volta sì, soprattutto nel periodo verso, diciamo, la fine dell'anno nel quale si definisce la librea. A volte diamo il nostro contributo anche per questa cosa qua e devo dire che, essendo molto emozionante, è la parte, se vogliamo, più artistica del nostro lavoro. Qual è la Ferrari più bella che tu ricordi, diciamo, tra tutte quelle che hanno corso, anche quando tu non c'eri, dal punto di vista estetico? Se con una bacchetta magica tu potessi averne una in salotto? Beh, diciamo che due le abbiamo qua, c'è la macchina di chimica in più nel mondo del 2007. Che è quella con quel rosso strano, tra l'altro. Quella con quel rosso strano, una vettura bellissima, velocissima, però probabilmente quella a cui ci sono apprezzionato più di tutti è la vettura del 2004 di Michael, una vettura che ha incanalato una serie incredibile di vittorie e penso rimanga una pietra miliare nella storia della Formula 1. Invece fra le Ferrari stradali, pensando anche a quelle degli anni 50-60, ce n'è qualcuno che quando la vedi, noi entrando qui abbiamo fatto tutto un percorso obbligatorio ed era tutto un... Beh, devo dire che sono un po' nostalgico e sicuramente la Ferrari F40 è quella che ne vanno negli... Sempre quelle con tanti cavalli, comunque nel tuo caso, concedi meno all'estetica. Senti, qualcuno dice che la Formula 1 negli ultimi anni, forse anche ha ragione, è diventata un po' noiosa, no? Perché è difficile superare. Detto che negli ultimi due anni abbiamo visto un sacco di Gran Premi, invece magari un po' rocamboleschi, ma molto avvincenti, come si fa a uscire, diciamo, da questa, come dire, quasi certezza che si ha, nel senso che una volta finito la tornata di prove, grosso modo i valori sono definiti ed è difficile sovvertirli, per ridare un po' più di sprint. Beh, c'è sempre una componente, diciamo, di sorpresa, legata alla strategia, la gestione della gomma, le condizioni del meteo, il pit stop, quindi non la definirei sicuramente una Formula 1 noiosa, la definirei una Formula 1 dove la parte, diciamo, di ottimizzazione ingegneristica ha trovato sempre più spazio e ha permesso alle squadre di essere più vicine. È chiaro che alla fine la padrone lo fa la vettura, quindi comunque chi ha la vettura migliore ha un grosso vantaggio. Certo. però è uno sport dove comunque la competizione è ancora molto forte e dove ci sono ancora possibilità, diciamo, di sovvertire gli ordini durante la gara. È vero che il tuo principale nemico, parlo dal punto di vista di un pilota, è sempre e solo il tuo compagno di squadra, perché è l'unico vero termine di paragone che esiste. Nei confronti degli altri puoi sempre avere l'alibi che la macchina non sia all'altezza. Ma, no, mi viene da dire che forse il peggior nemico è il cronometro, è sempre quello che ci sfidiamo tutte le volte. Cosa pensate quando vedete una macchina che va a sbattere? Beh, innanzitutto... Al di là del disappunto perché la gara è rovinata e tutto il resto, però c'è anche un po' di dispiacere per del lavoro che si butta via o fa parte, diciamo, del gioco. Ma, diciamo così, per quanto mi riguarda mi viene sempre da pensare a chi l'ha costruita, a chi l'ha assemblata, alle persone che magari hanno fatto le notti o i weekend in produzione per cercare di preparare questi oggetti che sono quasi opere d'arte e quindi vederli così sbriciolarsi in piste contro un muretto è sempre una cosa che ci dà un po' di apprezzione. Se si partisse da zero con tutti i pezzi sparpagliati per terra, in quanto tempo una squadra di meccanici assembla una monoposto? Beh, dipende molto se è il primo assemblaggio o se è un assemblaggio diciamo di una vettura che è già conosciuta e quindi già pronta per essere utilizzata in gara. tipicamente diciamo che una tempistica può essere diciamo mettendo in fila tutte le varie fasi di una settimana o poco più però può essere anche molto più veloce una volta che è conosciuta la vettura a volte succede anche che magari una macchina venga distrutta durante le prove e fanno questi famosi miracoli notturni di rimetterla insieme. Certo, però chiaramente partono da un motore che è già pronto o da un cambio che è già pronto quindi se facciamo poi l'esercizio da zero tutti i pezzi su un foglio bianco è un pochino più lungo. Senti, quante macchine più o meno costruite in una stagione? Diciamo circa 5-6 vetture in realtà non esiste una macchina questi sono i telai poi in realtà i componenti sono diversi quindi c'è un certo numero di cambi di motori di sospensioni un po' a seconda degli utilizzi diciamo. Quali sono i vincoli più grandi per un progettista? Perché alla fine insomma lo vediamo anche sulle macchine stradali se uno fa funzionare diciamo al meglio il cervello di un computer i risultati sono praticamente sempre gli stessi perché comunque l'aerodinamica ti porta lì il peso ti porta lì le dimensioni ti portano lì qual è il vincolo più antipatico per un progettista? Ma diciamo i vincoli forse più che antipatici direi più sfidanti sono quelli del regolamento quindi sono vincoli di regolamento tecnico sono vincoli di regolamento sportivo sono vincoli anche di regolamento finanziario che entreranno nel 2021 quindi tanti vincoli con i quali sfidarsi che possono dare opportunità diciamo per fare un lavoro migliore dei nostri competitors torniamo invece al passato quanto ci hai messo ad abituarti al suono o al non suono delle Formula 1 diciamo degli ultimi anni da quando insomma è arrivata la unit power come si dice la power unit insomma la parte ibrida il primo anno eravamo tutti un po' spiazzati davanti a questo rumore che sembrava un asciugacapelli devo dire che per chi è nato a Imola e diciamo viveva a 20 km dal circuito e quando era piccolo era un po' la violenza sentiva le vetture girare a 20 km da casa è stato un po' uno shock diciamo sentire un cambio di rumore come questo però alla fine penso che sia la cosa giusta va nella direzione dell'efficienza va nella direzione della sostenibilità quindi è importante l'utilizzo dei turbo su queste vetture cosa dicono i piloti delle macchine ibride hanno ancora forse più coppia più propulsione ma sicuramente sono le vetture più veloci di sempre quindi sono le vetture che hanno in tante piste stanno battendo i record quindi sono vetture incredibili di grandissime prestazioni sono molto più grandi e più lunghe le macchine rispetto a quelle di una volta adesso viste anche fisicamente qui poi abbiamo visto anche le altre quanto è lunga una Formula 1 dalla punta del muso alla coda della lettura sono lunghe anche 5 metri nella mia box non ci sta adesso devo verificare si può smontare il muso davanti si può togliere il muso si sono vetture appunto più lunghe di queste di queste che vediamo adesso più larghe anche gli stessi pneumatici sono comunque più larghi sono vetture dove l'evoluzione per prestazione è stata molto importante uscendo per un secondo dal mondo dell'auto nei mesi scorsi abbiamo vissuto questa terribile stagione del covid so che tu hai collaborato anche a un progetto per realizzare dei respiratori per gli ospedali di questo si è stata di che è stata l'idea e come avete fatto ma innanzitutto diciamo che l'idea è nata dalle IT quindi Istituto Italiano di Tecnologia che ci ha contattato con i quali appunto abbiamo dei rapporti di lavoro e ci hanno chiesto supporto per realizzare in tempi brevissimi un ventilatore polmonare sicuramente in un periodo in cui in Italia c'era scarsità di questo tipo di oggetti quindi ci siamo messi durante diciamo il periodo di lockdown quando le attività di Formula 1 erano sospese per regolamento ci siamo messi a capofitto in questa esperienza con tanti ingegneri giovani che hanno lavorato il sabato la domenica la notte per cercare di realizzare questo prodotto in tempi velocissimi fate ancora smart working? facciamo ancora smart working sì perché comunque ci aiuta a rispettare i requisiti che ci siamo dati di distanziamento sociale è sicuramente un'esperienza interessante che magari sarà anche utile e da rivolutare anche per il futuro certo quanti sono gli ingegneri che lavorano per la Ferrari? sono diversi centinaia diversi centinaia di ingegneri come si fa a coordinarsi? è una specie di filiera sembra quasi di sentire i racconti della Pixar quella che fa i cartoni animati dove in cento devono fare soltanto le piume di un pappagallo una Formula 1 è fatta di tantissimi pezzi quindi ognuno ha la responsabilità di un singolo pezzo oppure c'è un lavoro d'equip diciamo che è un po' organizzata come un esercito c'è il nostro generale il nostro comandante che è Mattia Binotto e poi c'è una struttura di comandanti ufficiali sotto ufficiali chiaramente per fare un'analogia che cercano di organizzare le attività nel modo corretto c'è una parte che è sempre proiettata al futuro ci sono gruppi di lavoro state già pensando al 2021 state già pensando a quello che arriverà dopo abbiamo diversi gruppi di lavoro che lavorano chiaramente in parallelo quindi lavoriamo sulla vettura corrente lavoriamo sul 2021 lavoriamo sul 2022 ma lavoriamo anche sui regolamenti futuri vai spesso a legare? ogni tanto sì ogni tanto sì e quando vai a legare fai anche un giro nella pit lane e butti l'occhio su quello che fanno gli altri ovviamente e gli altri lo fanno con voi si riesce ogni tanto a sbirciare qualcosa si riescono a vedere tante cose ma devo dire che al giorno d'oggi grazie alla televisione alle fotografie eccetera non ci sarebbe neanche bisogno di questo e voi vi accorgete non so che una modifica di una macchina sta dando dei risultati una macchina di un altro insomma beh sicuramente vediamo gli aggiornamenti delle altre vetture siamo sempre interessati a questo ma forse quello ci deve interessare di più di tutti è la nostra vettura quindi capire gara dopo gara quale sono le opportunità da cogliere i miglioramenti da portare e migliorare sempre che tempo di reazione avete se vi accorgete che una lettona che avete usato in questo gran premio non funziona quanto ci vuole per avere uno nuovo? ma a seconda dei componenti la reazione può essere per il giorno dopo quindi magari c'è un problema va risolto oppure per la gara dopo oppure magari sono componenti più difficili dove il tempo diciamo di ingegneria è più lungo come ad esempio l'altone dove impariamo sviluppiamo e ci ripresentiamo qualche gara dopo con una modifica voi avete una galleria del vento qui a Maranello sì una bellissima galleria che usiamo per lo sviluppo delle Formula 1 la usate tanto o c'è un limite anche da questo punto di vista nei regolamenti diciamo che c'è un limite sul numero di chiamiamo di run che possiamo fare in galleria sul numero di ore che possiamo quelle quali possiamo sviluppare il prodotto e anche sull'attività di CFD quindi l'attività di sviluppo al computer della galleria però io so che l'oggetto più tecnologico che hai e che usi è la tua bicicletta passione comune almeno esatto sono molto affezionato ti capita di farci un giro anche per sfogare magari la frustrazione di un gran premio venuto male sì quello è sempre una buona idea quindi l'augurio che tu la lasci posteggiata nel garage che non ti debba più servire bene allora chiudiamo di solito io chiedo come ultima domanda se c'è un'innovazione tecnologica che potrebbe dare la svolta alla tua carriera o piuttosto al tuo mondo ma ho già capito che qui ragazzi sono tutti segreti non si può dire niente secondo me Simone ce l'ha già in tasca questa invenzione ma non ce la vuole raccontare resta nascosta nel suo portafoglio tecnologico ma sicuramente arriverà grazie per la disponibilità in bocca al lupo per tutto buon lavoro sappi che del tuo buon lavoro poi ne traiamo gioia anche noi e quindi grazie mille e crepe il lupo grazie